carissimi ragazzi e ragazzi in ascolto sono dei buon consiglio voi tutti gentilissimi radioascoltatori un santo pomeriggio a tutti ben ritrovati sulle frequenze della nostra carissima e amatissima radio una santa festa oggi un grande martire della chiesa antica di Sant'Ignazio di Antiochia un fuori classe un testimone della santità e di un martirio molto molto forte che ricevette insomma tra le fiere in quel di Roma ricordato nel canone romano un grande vescovo a cui affidiamo permettetemi questa intenzione di premessa un po' un po' da sacerdote ecco tutta la vita dei ministri e dei vescovi e dei sacerdoti ecco perché possano essere sempre all'altezza del loro altissimo ministero allora siamo nella terza ed ultima parte del nostro itinerario alla scoperta della divina volontà del dono della divina volontà rivelato da Gesù alla serva di Dio Luisa Piccarreta stiamo nella sezione nell'ultima sezione dedicata al fiat santificante cioè dopo aver visto più o meno che significa che come si è manifestata la divina volontà nel corso della storia della salvezza soprattutto negli eventi della creazione e della redenzione e anche poi dell'inizio del tempo della santificazione che comunque è seguente la Pentecoste c'è però un momento come sappiamo che in cui la divina volontà ha deciso di rivelare se stessa in un modo del tutto approfondito e peculiare a questa serva di Dio che a sua volta è diventata apostola e quindi trasmettitrice di queste perle di cui oggi sentiremo parlare agli uomini e alle donne che avrebbero voluto accogliere questo dono la volta scorsa se vi ricordate abbiamo cominciato a dire perché adesso il senso di quest'ultima parte delle catechesi è bene io vorrei approfondire vorrei vivere questa realtà come si fa che cosa bisogna fare quali passi si devono compiere che cosa è necessario abbiamo visto la volta scorsa se ricordate chi ha seguito che il primo passo nel Fiat Santificante è dedicare tempo alla conoscenza delle rivelazioni che Dio ha fatto sul dono della divina volontà quindi perché Gesù stesso lo sentiremo dire anche oggi perché continuiamo questo argomento che è fondamentale poi la prossima volta cominceremo a trattare di altro la prima cosa è conoscere conoscere bene queste rivelazioni e chiaramente conoscerle per quanto possibile comprenderle ed è possibile comprenderle senza scoraggiarsi su alcune come dire alcuni tipi di linguaggi o alcune forme di preghiera o di esercizi che ad un primo approccio potrebbero risultare un pochino ostici è chiaro che questa è una cosa questa è una cosa certa cioè che Gesù ha ben specificato che questa modalità del tutto peculiare precisa puntuale di rivelazione sulla divina volontà Gesù ha proprio usato queste espressioni guardati sfido cerca qualunque libro scritto dottrina dei santi non lo troverai in giro perché con tale chiarezza con tale linguaggio approfondito con tale dovizia di dettagli l'ho rivelato soltanto a te ecco e evidentemente non l'ho rivelato soltanto a te come dire come un dono privato come un come come dire come un mistero di amore interpersonale a volte Gesù ha fatto alcune cose di questo genere perché Gesù è libero di fare quello che vuole hanno fatto se Gesù si era Madonna nel senso che hanno alcuni segreti d'amore o di altro con le anime nessuno li sa se li portano nella tomba i diretti interessati e buonanotte insomma penso che nessuno possa come dire avere il potere di andare a sindacare quello che fanno Gesù e Maria quindi questo non è nelle nostre però non si tratta cioè in questo caso non si tratta di una realtà di questo genere è un dono che Gesù attraverso Luisa lo sentiremo oggi vuole fare a tutta l'umanità in potenza chiaramente a coloro tra di essi che accoglieranno questo dono c'è uno scritto bellissimo che oggi vorrei leggere con voi e commentare è un po' lungo ecco però diciamo che da un lato c'ha la funzione di farci venire ancora più voglia se non ce ne fosse venire se non ce ne fosse venuta ancora di entrare in questo regno perché sentiremo parlare di alcune prodigi stupendi che il Signore promette a chi entra in questo mondo e poi sentiremo ancora Gesù evidenziare da un lato l'importanza di queste conoscenze però vedremo che si riallaccia anche perché ha l'importanza della conoscenza del Vangelo che è come dire la prima forma in cui la parola di Gesù si è cristallizzata si è trasmessa a noi io penso che bisogna sempre tornare a insistere un po' sull'importanza della conoscenza del Vangelo anzitutto ecco capite cioè penso che sia una cosa quasi scontata però meglio non dare troppe cose per scontato è chiaro evidente che cioè non esiste ingresso nella divina volontà se io non conosco bene il Vangelo è un momento in pratica cioè questo 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 è evidente ecco quindi non avere questo senso di profonda riverenza verso la parola di Gesù che poi la Chiesa sapete ci trasmette nella liturgia quando si legge il Vangelo ci si alza in piedi c'è la introduzione del Signore sia con voi i gesti di segnarsi la fronte le labbra il cuore l'incensazione del Vangelo quando è messa sorenne oppure addirittura l'ingresso processionale dell'Evangeliario quando è prescritto quindi il Vangelo ha portato alto in processione poi ha portato in processione dall'altare al Lambone il Vescovo lo bacia dalla benedizione col Vangelo quindi quindi questo perché io penso che chi per esempio non ha amore al Vangelo ma come fa ad avere amore agli iscritti di Luisa Piccarreta perché gli iscritti di Luisa Piccarreta sono due le cose d'accordo senza anticipare ovviamente il giudizio della della chiesa d'accordo ma sapete che fino a quando è stato l'ultimo creazione dell'ottrina della fede c'è il processo di beatificazione quindi sicuramente a breve appena esce l'edizione critica che stanno curando degli iscritti ci sarà un giudizio definitivo il primo che ho già detto che è stato positivo quindi non stiamo facendo assolutamente nulla di temerario o di strano insomma no del resto la dottrina che stila da questi iscritti insomma cioè roba di cero allo stato puro per cui io dico sempre quando accadono delle cose strane dico se il diavolo si è scemito d'accordo cioè nel senso che va attraverso una cosa falsa va a procurare effetti strepitosi sarà imbecillito pure il diavolo insomma capite chiunque si accosta a questa roba qui con un po' di sale in zucca che non si mette a fare il matto ma non può trarne altro che benefici su benefici su benefici su benefici su benefici però capite allora cosa sono questi scritti e questi scritti hanno una funzione e c'hanno ragione d'essere se io li concepisco come scritti che vengono dalla bocca di Gesù ovviamente tenete presente io sono un prete la rivelazione pubblica è una cosa la rivelazione privata è sempre un'altra cosa però se io non sono innamorato del Vangelo cioè quando sento la parola di Gesù mi vibra mi vibra l'anima d'accordo ma non mi vibrerà tanto l'anima quando sento queste cose perché non sono familiarizzato ecco avere la grazia il dono di poter conoscere la parola di Gesù è una cosa se noi ci ci pensiamo ogni tanto dobbiamo un attimo pensare anche queste cose cioè perché la nostra santa fede cattolica la vita di fede è qualcosa di stupendo ma noi ci pensiamo che Dio si è fatto uomo cioè Dio ci ha parlato con linguaggio umano dice la Chiesa nella dei verbum con una voce bellissima tra l'altro soave e comprensibile no certo il Vangelo non è un fumetto o un romanzo quindi non si può leggere così come leggo il quotidiano certo richiede una certa attenzione c'è un linguaggio che a volte è un po' ostico tutto quello che volete però è sempre la parola di Gesù capite quando ascoltiamo la parola di Gesù ma dovremmo considerarci dei graziati insomma dei privilegiati insomma no pensate al popolo di Israele nell'Antico Testamento che quando Mosè gli portava la parola del Signore attraverso un intermediario Mosè era un essere umano e si legge nell'Antico Testamento e dice ma chi siamo noi che Dio si degna di parlarci e di rivolgerci la parola e dicono bene fanno bene cioè ci deve essere anche un po' di questo come dire sano e santo stupore dico un po' la grande Santa Elisabetta no grande maestra quella si è trovata la Madonna davanti con il nostro Signore ma mia ah ci picchia a che debbo che la madre del mio Signore venga a me gli sta a prendere un infarto dice oh ragazzi è venuta la Madonna a trovarmi è una cosa una cosa grossa no e quindi un po' di santo stupore ci deve venire ecco e spero che ci venga anche a contatto con tanti prodigi adesso non vorrei chiacchierare troppo perché ci vorranno una decina di minuti per leggere tutto quanto questo brano e poi commentarlo ecco 22 ottobre 1926 questo è il volume se non ricordo male 20 comincio la lettura che è in due parti appunto la prima parte accenno che è una dissertazione diciamo una sorta di apologia di Gesù sul bene che porta questo regno del Fiat e poi la seconda parte quindi l'importanza della conoscenza e quindi l'importanza della conoscenza a partire dal Vangelo allora scrive Luisa stavo pensando tra me al santo volere divino e dicevo ma quale sarà il gran bene di questo regno del Fiat Supremo e Gesù come interrompendo il mio pensiero e come in fretta si è mosso al mio interno dicendomi attenzione è bellissima scusate se faccio subito l'interno è che capito appena Gesù ha sentito dire ma quale sarà il gran bene subito te lo dico subito capito interrompe il mio pensiero e come in fretta si è mosso nel mio interno non c'è manco bisogno che me lo chiedi ma te lo dico subito anzi apri bene le orecchie quindi è grazioso secondo me rappresentarci un po' questa scena come interrompendo il mio pensiero e come in fretta si è mosso nel mio interno dicendomi e che cosa dice Gesù attenzione adesso qui tanta roba attenzione figlia mia quale sarà il gran bene ma quale sarà il gran bene attenzione il regno del mio fiat racchiuderà tutti i beni tutti i miracoli e i portenti più strepitosi anzi li sorpasserà tutti uniti insieme capito? italiano corrente tutti i beni tutti i miracoli e i portenti più strepitosi e li sorpasserà tutti uniti insieme cioè pensiamo tutti quanti i miracoli tutti i portenti tutti i beni che Gesù ha erargito guardate che sono tanti se non conosce un po' la storia della chiesa un po' di roba un po' di vite dei santi eccetera eccetera li racchiude tutti e oltre ancora d'accordo? e se miracolo significa dare la vista a un cieco raddrizzare uno zoppo sanare un infermo risuscitare un morto eccetera attenzione bene a questo termine il regno della mia volontà terrà l'alimento preservativo ricordate questo termine che poi lo spiega e chiunque entrerà in esso non ci sarà nessun pericolo che possa rimanere cieco zoppo infermo capito? la morte dell'anima non avrà più potere e se l'avrà sul corpo non sarà morte ma passaggio e mancando l'alimento della colpa e la volontà umana degradata che produsse la corruzione nei corpi e stando l'alimento preservativo della mia volontà anche i corpi non saranno soggetti a scomporsi e da corrompersi così orribilmente da incudere paura anche ai più forti come lo è tuttora ma rimarranno composti nei loro sepolcri aspettando il giorno della risurrezione di tutti io spero sempre ecco salvo qualche sussulto sulla sedia tutti capiamo bene l'italiano di quello che sta dicendo Gesù ecco è roba grossa lo capiamo no? onde credi tu che sia un miracolo di più dare la vista a un povero cieco raddrizzare uno zoppo sanare un infermo oppure tenere un mezzo preservativo che l'occhio non perde mai la sua vista che si cammina sempre diritto e che si stia sempre sani sarebbe come dire è più grande la madonna che è stata preservata dal peccato originale o è più grande chi è stato redento questa è una domanda retorica no? redente in modo più eccellente dice la Lumen Gentium riguardo Maria Santissima perché impedire di cadere è cosa più nobile che rialzare chi è caduto quindi credi che sia più il miracolo preservativo che il miracolo dopo successa la sventura? prima pausa abbiamo capito quello che sta dicendo cioè Gesù comincia a dire quando arriverà questo regno del Fiat Supremo attenzione non pensiamo a cose particolari pensiamo al regno del Fiat Supremo nella mia anima ma regno vero d'accordo vedremo cos'è non il regno delle chiacchiere d'accordo o il regno dei 4P esercizi regno regno quando c'è regno regno le infermità che sono sempre una conseguenza ultima della colpa non ti possono prendere cioè tu non puoi diventare cieco non puoi diventare zoppo non puoi diventare infermo non ci sarà nessun pericolo che possa rimanere cieco zoppo o infermo la cosa più bella la morte dell'anima non avrà più potere capite che significa cioè se entra questo regno il peccato mortale non cioè non se ne parla proprio più la morte dell'anima non esiste più e la morte del corpo dice Gesù che comunque ci sarà ma non sarà così orrenda come quella dei comuni mortali sotto due punti di vista né l'atto del morire è molto diverso morire nella divina volontà o morire in stato di peccato ci sta in abisso ci sta ma anche le conseguenze della morte cioè può darsi che un corpo si non è detto che tutti che nessun corpo si decomponga non ha detto esattamente questo Gesù ha detto che non si corromperanno così orribilmente d'accordo c'è da sperare anche anche se non è tanto importante almeno però c'è c'è da sperare che molti di questi corpi possono rimanere incorrotti questi miracoli Dio l'ha già fatti i corpi incorrotti già esistono nella storia della chiesa tu dici perché ha lasciato incorrotto il corpo per esempio di Santa Bernadetta Subiru che io l'ho visto con gli occhi miei sta semplotto a never come mai boh ed è incorrotto anche il corpo di Papa Giovanni XXIII sta a San Pietro sta è incorrotto come mai non si sa ma è incorrotto sono passati 50 anni dalla morte è incorrotto non ha avuto il processo di mineralizzazione vogliamo fare ecco in effetti e questo perché spiega perché se entra la divina volontà fa da alimento preservativo cioè tutti i mali che noi viviamo voi capite che una delle cose fondamentali e a mio avviso anche molto belle diciamo di sponda di riflesso delle liberazioni sulla divina volontà è questa cioè che si capisce veramente da dove cioè qual è l'unico problema della razza umana l'unico ce n'è uno solo non ci sono altri problemi il resto sono tutti quanti problemi conseguenza ma il problema è uno solo uno vivendo un tale altissimo stato di grazie di unione con Dio quale quello del Fiat Supremo si rivive una situazione che era andata completamente perduta quindi si era persa ma torna ad essere vissuta che è appunto quella dei nostri progenitori e la posizione la condizione dei nostri progenitori con tutte le conseguenze con tutte le caratteristiche che aveva allora cioè una condizione in cui i mali conseguenti la colpa non hanno possibilità e modo di prendere piede e corpo non ci stanno non ci stanno semplicemente capite non ci sono e questo anche è promesso a chi come noi chiaramente entra questo regno non in stato di innocenza ma in stato di ingresso dopo aver condotto una vita almeno in parte da figli di Adamo ed Eva ok in tante queste cose bisogna tenerle presenti vado avanti nella lettura ecco la gran diversità del regno della redenzione e del regno del Fiat Supremo nel primo fu un miracolo per i poveri sventurati come lo è tuttora che giacciono chi in una sventura e chi in un'altra e perciò io ne diedi l'esempio anche all'esterno di dare tante diverse guarigioni che erano simbolo delle guarigioni che io dava alle anime che facilmente ritornano alle loro infermità bellissimo anche questo no io ogni volta che se sentite le prediche ogni volta che commento un miracolo di Gesù spiego sempre questa è dottrina antichissima che i miracoli del corpo che Gesù ha realmente compiuto sono però sempre anche figura e simbolo di miracoli che opera sulle anime cioè di malattie interiori che sono quelle tra l'altro a cui Gesù ha più e gli stanno più a cuore principalmente desidera curare molto più che le infermità dei corpi che sono come dire satelliti esterni d'accordo che non sono certamente i problemi più gravi anche se da molti di noi sono percepiti come tali no quindi nel regno della redenzione lui che ha fatto ha cercato di eliminare le conseguenze negative del male d'accordo quindi tra l'altro sia guarendo la malattia del corpo sia a volte guarendo la malattia dell'anime ma stando comunque in una situazione in cui il peccato originale è ancora attivo è ancora una peste bubonica molto facilmente le malattie ritornano e le malattie dell'anima rispuntano allora continua il secondo quindi il regno del figlio supremo sarà miracolo preservativo perché la mia volontà attenzione possiede la miracolosa potenza che chiunque si fa dominare da essa attenzione al termine non sarà soggetta a nessun male attenzione però dominare da essa stampiamocelo bene in fronte questo termine ed è un dominio volontario perché attenzione la divina volontà non esercita nessuna forma di coazione di violenza su nessuno d'accordo così come la 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 madonna io parlo sempre riferimento a molti che hanno sempre molta fretta di fare la consagrazione totus tus ma che te totus tus cioè la madonna lo vuole esercitare un dominio assoluto assoluto capite su un'anima ma non lo farà mai se l'anima non glielo non c'è gli deve dare carta bianca ma non ti dice carta bianca e poi la prima cosa ti dice non la fai carta bianca è carta bianca non è che puoi dire questo sì e questo no 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 questo sì e questo sì d'accordo io invito sempre no ma non è che lo faccio per scolaggiare le persone ma lo faccio perché è sempre meglio mettere un attimino le mani avanti no cioè vuoi entrare nel regno della divina volontà bene tu cominci a pensare una cosa che tu dici guarda se Dio mi chiedesse questo mai ecco allora comincia un attimo a pregarci un po' sopra perché qualunque cosa sia dice no ma che mi fa morire mio figlio di un anno no nessuno sta dicendo speriamo che Dio faccia morire capite bene il senso del discorso no e noi dobbiamo sempre pregare al Signore che ci mantiene in saluto i nostri cari eccetera eccetera capite mi ricordo Massimo Troisi che diceva capisci capisci però se nella sua provvidenza Dio ci avesse bisogno da te di quel sacrificio d'accordo per riparare tutti gli aborti non lo so centomila aborti volontari che sono stati fatti eh guardate che questo potrebbe essere possibile in teoria d'accordo tu che dici io lo dai quindi lo riprenderò durante le catechesi cioè noi dobbiamo sempre andare davanti a mio avviso personale ma non troppo quando pensiamo al rino della mia volontà prendi Abramo noi dobbiamo essere sempre pronti a dare i sacco al nostro Signore sempre poi se non lo vuole non ti preoccupare che non te lo chiede capito non te lo chiederà cioè se il nostro Signore questo famoso tuo figlio non lo vuole non te lo chiederà mai e anche questo è un atto di fiducia e di abbandono cioè capite cosa vuol dire le porte a 360 gradi cioè tu non hai nessun dubbio che qualunque cosa Dio voglia o ti chiede è sempre bene fosse anche umanamente parlando ma nel regno della mia volontà umanamente parlando è croce rossa sopra non esiste più sarebbe una cosa da dire Dio ce ne scampi e liberi non so se se riesco a a farmi capire chiunque si fa qui dice ah ma io sto vivendo una divina volontà sto dicendo viene divina volontà nel mio camminare sto facendo qualche giro nel Fiat Creante e che ne so sto dicendo Fiat 40 volte al giorno e e mi è venuta l'influenza allora non sono vere le promesse della divina volontà io adesso sto come dire caricando un po' scherzando un po' ecco ma appunto non scherziamo chiunque si fa dominare dominare dominium capito chi ha studiato diritto diritto romano quando sentiva parlare di dominio quiritario era la massima forma di proprietà che i romani proprio era proprio il top il dominio quiritario è è il padrone assoluto capito faccio quello che mi pare ecco quindi poi Dio fa quello che te pare con te fa quello che gli pare con te dicono a Roma veramente come diceva Santa Teresa di Gesù Bambino il giocattolo il giocattolo e guardate che Santa Teresa di Gesù Bambino l'ho detto in qualche altra catechesia hanno fatto l'ottore della chiesa e qualcuno di questi un pochino non capisce non fa di queste cose che non usa molto la foto della chiesa questa qua che dice che dobbiamo diventare il giocattolo nelle mani di Gesù Bambino proprio per questo sta la parte dell'ottore della chiesa non so se capite la profondità e la ricchezza dobbiamo diventare il giocattolo nelle mani di Gesù Bambino proprio così cioè che Gesù è un giocattolo un bambino non soltanto che Gesù fa quello che gli pare d'accordo ma lo fa come gli pare se gli pare e quando gli pare ma proprio a capriccio del bambino cioè oggi mi serve che tu mi fai divertire in quarto d'ora più e gioco un po' poi te sbatto dentro la dispensa e non ci gioco per quattro mesi con te problemi? c'è qualche problema? c'è qualche problema? d'accordo io da parroco dico pensiamo a tutti quelli allora io leggo le letture in chiesa appena a volta con la lettura in chiesa quello è dominio quiritario del lettore feudo d'accordo con signore signorotto e bacio in bocca di giuramento di fedeltà la prima volta che qualcuno non mi ha chiamato a leggere la lettura allora non mi ha chiamato a leggere la lettura ah io la devo cioè sto facendo un esempio proprio che Dio me perdoni ma anche in queste cose si manifesta capite? hai letto la lettura un giorno benissimo dopodiché parlo con te sefila a vita vanno a leggere certi somari d'accordo che accucchiano quattro parole messe insieme d'accordo e cominciano a leggere che se capisce niente tu stai e dici ma guarda chi sta a leggere questo che non capisce niente io invece ho letto tanto bene e non mi hanno manco richiamato guardate che la vita non è fatta dominarsi dalla divina volontà allora il nostro signore mi manderà in croce come lui forse d'accordo e magari fosse d'accordo ma la vita a volte è fatta di cose molto molto piccole e divina volontà e che succede è una cosa del genere tu stai tranquillo come se niente fosse capito? perché la tua vita non viene dalla gratificazione di andare a fare come dire la prima donna all'ambone che ha letto la lettura d'accordo? non viene da altro d'accordo? ecco va bene quindi la mia volontà possiede la miracolosa potenza che chiunque si fa dominare da essa non sarà soggetto a nessun male dominare quindi la mia volontà non ha nessun bisogno di fare miracoli non ci stanno miracoli perché i miracoli se stanno quando sono necessari ma il miracolo lo fa prima ancora che accade perché i suoi figli li conserverà sempre sani santi e belli avete capito? ah oh belli eh niente lifting niente trapianti dei capelli niente cure dimagranti niente fitness zero sta scritto qui eh sani santi e belli sani santi e belli degni di quella bellezza che è uscita dalle nostre mani creatrici nel creare la creatura guardate che la madonna in tante apparizioni riconosceva non riconosceva ha sempre detto che la madonna non è che è bella non è che è bellissima chiunque l'ha vista ha detto lasciamo perdere d'accordo lasciamo perdere perché non si può descrivere d'accordo ma la madonna sì certamente il nostro signore l'ha fatta l'ha fatta bene ma noi sapete noi sappiamo che abbiamo un tasso potenziale noi possiamo far aumentare la nostra bellezza lo sapete guarda che dice Leonardo ci saranno tutti i canti sulla spia ah sì 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 la bellezza tua aumenta tanto quanto fai la volontà di Dio diventi più bello diventi d'accordo perché anche come dire i problemi esteriori le linee d'accordo se uno impara un pochino la virtù cardinale della temperanza e poi non c'è più tanti problemi di linea se fa qualche digiunetto una volta ogni tanto non c'è più tanti problemi di linea non c'è bisogno poi di tutte queste cose qua chiusa parentesi bene il regno del fiat divino prosegue farà il gran miracolo di sbandire tutti i mali tutte le miserie tutti i timori fine della paura fine perché essa non farà il miracolo a tempo e a circostanze ma sentite questa espressione guardate ragazzi che io non l'altro ma si terrà i suoi figli i figli del suo regno con un atto di miracolo continuato per preservarli da qualunque male e farli distinguere come figli del regno suo tanta roba e questo nelle anime ma anche nel corpo ci saranno molte modifiche perché è sempre la colpa l'alimento di tutti i mali cioè le nostre deformità i nostri mostri di Loch Ness che a volte siamo sono sempre derivazioni derivazioni e ricordo quando studiavo economia politica c'erano le derivate e non ci ho mai capito niente le derivazioni sono sempre derivazioni in seconda o in terza sponda te la colpa tu sei brutto non perché le hai fatti tu i peccati non mi hai detto che le hai fatti tu padre tu nonno Adamo qualcuno ma le deformità sono sempre in collegamento diretto con la colpa quindi se cominci a fare un po' di pulizia dentro di te e cogliere la divina sicuramente diventi meno sicuramente diventi meno mostro sicuro 100% tolta la colpa mancherà l'alimento al male il male è un mostro che mangia guardate che per male si intende tutto la bruttezza è un male d'accordo la deformità è un male d'accordo tutte quante le meschinità le piccinerie io ho detto tante volte più tempo passa e purtroppo sono diventato allergico pure a me stesso perché io non è che sono del tutto alieno ahimè ma io sto diventando intollerante insofferente cioè quando sento puzza di volontà umana che è proprio meschina povera già mi viene il mal di panza subito subito è chiaro poi che c'è la carità c'è la pazienza e le altre virtù che uno ma l'effetto che dà è alquanto nauseabondo e prosegue mancherà l'alimento al male molto più che volontà mia e peccato non possono esistere insieme non possono e quindi anche la natura umana avrà i suoi benefici effetti gratis gratis niente chirurgia estetica niente esteristi niente di niente ora figlia mia adesso non fate che vuole entrare in regno della mia volontà perché uno deve diventare peggio dell'attore o dell'antrice facciamo una battuta ogni tanto che ci fa che ci fa bene comunque ora figlia mia dovendo preparare il gran miracolo del regno del fiat supremo qui c'è un passaggio sto facendo con te come figlia primogenita della mia volontà così si ribadisce il ruolo di Luisa come feci con chi con la sovrana regina mamma mia quando dovetti preparare il regno della redenzione e che cosa ha fatto Gesù con la mamma sua la tirai tanto a me guardate che la Madonna non capiva nient'altro che Gesù non c'era non capiva niente lei non si offende d'accordo non capiva nient'altro che questa cosa qui cioè lei stava proprio completamente persa cioè se si vedono anche cioè ma fin da quando era bambina non c'era lei non pensava ad altro che quando arriva il Messia quando arriva il Messia e lo ha tirato giù capito io ho un'immagine che c'ho cioè veramente cioè la Madonna c'era avete visto quelle cose tipo tipo i ganci c'era dei ganci che lanciava verso il cielo l'ha lanciato e a un certo punto l'ha acchiappato e l'ha quasi tirato giù chiaramente questi erano dardi d'amore capite sono operazioni mistiche ma guardate che la Madonna era così era quindi come feci con la sovrana regina mamma mia la tira tanto a me la tenni tanto occupata nel suo interno occupata a che occupata ad amare il Messia prima ancora di vederlo a sognarlo a tal tal di quando verrà sulla terra dovunque sta io vado me ne vado in capo al mondo per vedere si vede in alcune rivelazioni private che vi consiglio di leggere possa essere private quanto gli pare ma se quella non è la Madonna guardate io nessuno mi ha ordinato prete d'accordo cioè veramente guardate è talmente proprio pregno dello spirito di Maria alcune cose che io ho letto guardate che c'è mettere una mano sul fuoco che è lei è proprio la sua foto la sua proprio identità la tenni tanto occupata nel suo interno per poter formare insieme con lei il miracolo della redenzione e ce n'era tanto bisogno tante cose insieme che teniamo da fare da parte capito c'è uno da fare Gesù e la Madonna stavano sempre stavano sempre lavorare insieme e nel segreto di tutto era la loro storia erano i loro segreti era la loro vita guardate che qui dentro non c'è mai entrato nessuno io non lo so se Gesù e la Madonna hanno fatto la grazia a qualcuno glielo auguro vivamente perché potete immaginare che roba che hanno combinato insieme Gesù e Maria capito tenevamo ci avevamo da fare immaginate Gesù io io e mia madre ci abbiamo da fare perché ci abbiamo tante cose da riparare e tante cose da contemplare e come era la protetta dovetti occultare al suo esterno qualche cosa che poteva chiamarsi miracolo cioè la Madonna sulla terra questa dottrina comune non ha fatto i miracoli almeno non quelli visibili non ha fatto uno visibile quando andava a visitare Santa Elisabetta poi è stata la provocazione del primo miracolo visibile di Gesù ma le fonti ufficiali non ci riferiscono miracoli visibili operati da Maria c'era un motivo quindi dovetti occultare al suo esterno qualunque cosa che poteva chiamarsi miracolo meno che era sua perfetta virtù c'era una cosa che non si poteva nascondere perché bastava che la Madonna ci fosse pure se stava sitta perché tanto tutto di lei parlava quindi anche un movimento di un dito della sua mano parlava di virtù tutto capite il suo portamento il suo sguardo il suo modo di ascoltare il suo modo di parlare il suo modo di vestire il suo camminare che io vabbè è meglio che ho messo zitto cambiamo discorso e allora meno della sua perfetta virtù conciò la resi più libera per farla valicare il mare interminabile del Fiat eterno ok cioè la resi più libera nessuno ha andato a fastidio perché se se l'avesse fatto un miracolo ma lo capite che sta a dire ragazzi cioè se l'avesse fatto un miracolo poi c'era pericolo che qualcuno gli andava come dire noi diremmo io direi non si può dire però io direi poi andavano a sgonfiare non si può dire per dirgli fammi il miracolo fammi questo fammi questo perché avete visto come sono gli uomini no se si chiappano il padre pio di turno cominciano le fiumane 6 milioni di persone no no la c'era da fa la c'era da fa non doveva essere sturbata con ciò la resi più libera attenzione per farla valicare il mare del fiat il mare interminabile del fiat eterno la Madonna diceva il dono del fiat fin dall'istante del concepimento e tutto quello che operava in continuazione era ininterrottamente unito al fiat supremo ininterrottamente è stata la prima vedremo quando andremo più avanti cioè la vita di Luisa Piccarreta adesso non sarà così la nostra vita c'è molta gente dice ah ma io che ho combinato nella vita non ho combinato niente non ha combinato niente no c'è voglia di fare qualcosa tu vedi se il nostro signore ti chiama a fare quello che ha fatto Luisa fate che Luisa poi lo vedremo sicuramente come passava la giornata Luisa Piccarreta stava dentro una camera sta dentro a letto oh guardate questa è una delle più grandi se sarà canonizzata non ha deciso il giudizio della chiesa ma le cose che ha vissuto cioè lei passava la giornata a fare giri nel fiat creante nel fiat redimente sta passando la giornata a dare a Gesù tutto l'amore tutta la riparazione che gli uomini non gli hanno mai dato questo è proprio detto in due parole con gli atti con l'amore esercitato faceva nient'altro non faceva chiamava due amiche sue a lavorare al tombolo a insegnare a lavorare al tombolo perché doveva fare qualcosa per campare ma basta non faceva nient'altro ma sta storia è andata per 50 anni mica per una settimana basta e che faceva che ha fatto l'amore donna nel tempio fino a 13 anni questo faceva tranquilli faceva questo faceva questo che sarebbe stato di più se la celeste regina che cosa sarebbe stato di più sentiamo la grandezza della madonna ma capito la madonna e qui Gesù fa capire anche un'altra cosa cioè che la madonna è stata la madre del verbo non solo per elezione divina non solo per l'immacolata concezione perché questa è tutta quanta roba doni di Dio ma perché ha fatto questo da quando è stato concepito guardate che sarebbe stato di più se la celeste regina avesse dato la vista ai ciechi la parola ai morenti oppure il miracolo di far discendere il verbo eterno sulla terra avanti guardate che il verbo sulla terra l'ha fatto scende solo lei non è andato da un'altra parte e l'ha fatto scende almeno 15 anni prima del tempo tra l'altro tra l'altro ecco perché Dio c'è il gancio d'accordo che il verbo eterno stava talmente che non ce l'avata più questo è la donna del Fiat Miki d'accordo quindi la creatura del Fiat perché ripeto il Fiat creante è roba del nostro signore Fiat Lux ma il Fiat redimente sia coinvolto il verbo ma il perno è il Fiat Miki è la Madonna e il Fiat santificante il perno è un'altra piccola e apparentemente insignificante donna la più piccola di tutti avrebbe detto Gesù l'apparentemente più significante che la prima elementare guardate che io sto leggendo per esempio alcuni alcuni passi degli scritti di Luisa sono proprio scritti malamente sono scritti in italiano pessimo Dio me perdoni insomma perché poverina già questo è un miracolo che scriveva capite ma sono cose un po' contorte un po' così specialmente quando racconta lei quando parla delle cose lette da Gesù va meglio ma quando parla delle cose che si raccontano nei primi volumi a tratti l'italiano è proprio pessimo brutto allora i primi ricontinuano la lettura quindi dalla vista ai ciechi la parola morenti sarebbero stati miracoli accidentali e passeggeri cioè tutto qua quello che fa la Madonna dalla vista in cieco risorge un morto robetta capite ma è il secondo che scende il verbo eterno sulla terra è un miracolo permanente ed è per tutti purché lo vogliano ed è permanente perché il verbo non è che sia andato con l'ascensione il verbo sta per quanto mi riguarda a 20 metri da dove sto parlando io adesso sta dentro il tabernacolo della mia chiesetta non più tanto chiesetta chiesona ecco sta a lista da quando è venuto sulla terra non se ne è andato più nostro signore d'accordo è soltanto una presenza un po' più misteriosa ma uguale perciò i primi sarebbero stati come nulla paragonati al secondo essa essa fu il vero sole che eclissando tutto eclissò in sé lo stesso verbo del padre aù germogliando dalla sua luce tutti i beni tutti gli effetti e miracoli che produsse la redenzione ma come sole produceva i beni e i miracoli senza farsi vedere o farsi additare che era lei causa primaria di tutti questo è capito non solo che ma la grande classe perché la madonna oltretutto c'è anche una grandissima classe capito cioè voi sapete che madonna significa mea domina letteralmente cioè mia signora ecco e la madonna è una gran signora ma anche nel senso umano così come Gesù lo chiamiamo signore è un gran signore perché la classe è sempre classe cioè lei ha fatto de tutto d'accordo cioè è stata la luce dell'umanità e nessuno lo sapeva e non l'ha fatto notare a nessuno e perché ha fatto così perché a lei non gliene adesso non vorrei non gliene importa niente che importa che lo sa l'amore suo che importa che lo sa nostro signore basta capite che lo sanno gli altri non fa niente d'accordo senza farsi vedere o farsi additare e lei era la causa primaria di tutto difatti continua Gesù tutto ciò che io feci di bene sulla terra state attenti eh lo feci perché l'imperatrice del cielo il titolo che ha dato Gesù è imperatrice con la I maiuscola l'imperatrice del cielo we giunse ad avere il suo impero della divinità vedete che c'ho ragione io che c'aveva il gancio guardate guardate cosa dice e col suo impero mi trasse dal cielo per darmi alle creature l'ha tirato giù nostro signore capito ecco questa è tanta roba che sta qui ora così sto facendo con te per preparare il regno del fiat supremo ecco stessa cosa lui se ne conosce quasi nessuno ti tengo con me ti faccio valicare il mare interminabile di esso per darti l'accesso presso il mare presso il padre celeste scusate affinché tu la preghi la vinca la imperi alla divina volontà per ottenere il fiat del regno del regno mio e per compiere e consumare in te tutta la forza miracolosa che ci vuole per un regno così santo ti tengo continuamente occupata nel tuo interno nel lavoro del regno mio lo dice Gesù quello che faceva lui sa ti faccio continuamente girare per rifare familiarizziamoci con questi termini per completare tutto ciò che ci vuole che tutti dovrebbero fare per formare il gran miracolo del regno mio e esternamente nulla faccio comparire di te di miracoloso se non che la luce della mia volontà alcuni potranno dire ma come tanti portenti che manifesta il benedetto Gesù a questa creatura di questo regno del fiat divino i beni che porterà sorpasserà creazione e redenzione anzi sarà coronato l'una e dell'altra ma la tonta di tanto bene nessuna cosa miracolosa nell'esterno si vede in lei come conferma del gran bene di questo regno dell'eterno fiat mentre gli altri santi senza il portento di questo gran bene hanno fatto miracolo a tutto spiano tutto spiano la mia glossa dice ad ogni passo posso fare un'altra confessione dopo così diminuirà molto cioè io non solo io non solo quando vedi gli scritti di Luisa mi dice la mia volontà la mia volontà ho già detto di cosa abbiamo scoperto l'americo la mia volontà ma poi vedi una foto di Luisa Piccarreta guardate vergogna vergogna qualcuno qualcuno dico l'ho guardata dico una faccetta una donnetta piccola piccola cioè Dio abbia pietà di me ha fatto apposta l'ha fatto perché Dio sceglie piccoli d'accordo lo fa apposta cioè io adesso ultimamente sto capendo alcune cose cioè che veramente Dio lo fa apposta cioè Dio fa alcune cose apposta uno è di andare a scegliere queste creature apparentemente insignificanti e occultarle agli occhi del mondo uno e due questo è un po' un po' peggio che il nostro signore permette all'avversario di mettersi talmente tanto di traverso alle sue opere fino quasi ad essere arrivato a un'antichia di conaroma a mandarle a monte salvo che all'ultimo momento nostro signore rovescia affrittata e questo non è che ci vuole da essere grandi mistici basta contemplare l'opera della redenzione quello che è successo a Gesù è quello che è stato la tragedia del Venerdì Santo dove chi sembrava aver vinto non era certamente Dio ma sembrava che avesse vinto il demonio attraverso l'opera dei nemici di Gesù e che tutto dovesse andare fino in gloria ci ha creduto nessuno più nonostante che Gesù l'avesse tante volte annunciato se non sua madre l'unica a mantenere la fede nella risurrezione ha richiuso parentesi quindi Gesù dice ma tutti questi portenti che manifesterebbe sto Fiat e se vede questa essere insignificante che non ha fatto niente non ha fatto nessun miracolo Gesù commenta ma se si volgono indietro a considerare la mia cara mamma la vita delena della Madonna la più santa di tutte le creature il gran viene che era chiuso in sé e che portò le creature e non c'è chi può paragonarsi a lei fece il gran miracolo di concepire in sé il verbo divino ed il portento di dare un Dio a ciascuna creatura ed innanzi a questo prodigio non è mai visto né sentito di poter dare l'eterno verbo alle creature tutti gli altri miracoli messi assieme sono piccole fiammelle innanzi al sole quindi e cosa appariva all'esterno? niente solo la sua inimitabile e ineguagliabile virtù per quanto anche quelle la Madonna stava molto attenta a tenerle per quanto è possibile occultate agli occhi degli uomini ma conosciute da Dio solo però qui purtroppo non c'è riuscita perché c'è qualcosa o qualcosa in cui non c'è riuscita manco era tanto brava però proprio a nasconderle tutte è impossibile perché ce le aveva tutte d'accordo vedete tanto che seppellire da qualche parte non doveva proprio che nessuno la vedesse d'accordo era l'unico sistema però non era tanto possibile perché San Giuseppe la dovevano vedere per forza le compagnie del Tempio la dovevano vedere per forza qualcuno a Nazareth la dovevano vedere per forza che scomparisse dal tutto non era proprio possibile bene ora chi deve fare il più non è necessario che faccia il meno quindi uno che deve fare cose talmente tanto grandi non 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 cioè tutte queste cose che ai nostri occhi sembrano chissà cosa so robetta nei confronti di concepire il verbo eterno e dare la luce alla Madonna essere lo strumento per portare il regno della divina volontà sulla terra Luisa ecco così innanzi al miracolo del regno della mia volontà ripristinato in mezzo alle creature il regno della mia volontà ripristinato in mezzo alle creature dopo millenni tutti gli altri miracoli saranno piccole fiammelle innanzi al gran sole del mio volere ogni detto ecco qui poi dovremo completare sicuramente la prossima volta perché sapevo che era un po' lunghetto sto scritto ogni detto riprendiamolo e lo completiamo ogni detto verità e manifestazione su di esso è un miracolo che è uscito dalla mia volontà come preservativo ad ogni male e come legare le creature ad un bene infinito ad un'allora più grande ad una nuova bellezza tutta divina vedete mi fermo un attimo perché questo è un punto che si riallaccia alla precedente catechesi e che sta e che sta alla base ogni detto verità e manifestazione sul regno del divino volere è un miracolo uscito dalla mia volontà quindi se uno vuole assistere a miracoli su miracoli prende questo scritto che stiamo leggendo adesso è un miracolo poi quello che viene dopo 24 ottobre 1926 è un altro miracolo e via di cene sapete quante miracoli ci stanno chi c'ha voglia di vedere miracoli ieri c'era Gesù che dice che la generazione perversa vuole un segno ammessa di ieri niente segni ah qua di segni ne stanno quanti ne volete uno al giorno i più grandi miracoli Gesù che spiega il regno del divino volere che vuole di più ecco ogni mia verità sul mio eterno volere sentiamo bene contiene la potenza e la virtù prodigiosa più che se si risuscitasse un morto che se si risanasse un lebroso che se un cieco vedesse e che un muto parlasse cioè ragazzi tanto riprendiamo da qui la prossima volta perché non mancano due minuti io non ci dedico due minuti a sta roba qui ma capite ogni verità contiene più potenza e virtù più che se se fosse risuscitato un morto risanato un lebroso un cieco veda perché le mie parole sulla santità e potenza del mio fiat risusciteranno le anime alla loro origine vedete la risurrezione significato spirituale le saneranno dalla lebra che ha prodotto l'umana volontà ho detto che io sono diventato allergico ho detto allergia sapete che la lebra appena ti tocca è la fine diventi lebroso pure tu allergia le darà la vista per vedere i beni del regno della mia volontà perché finora erano come ciechi e darà la parola a tanti muti che mentre sapevano dire tante altre cose fuori delle righe scienza umana d'accordo magari anche molto erudita ma sempre senza sempre robetta capite roba piccola solo per la volontà con la v maiuscola quindi la divina volontà erano come tanti muti che non avevano parola e poi il gran miracolo di poter dare una volontà divina a ciascuna creatura che contiene tutti i beni ma che cosa non ne darà quando si troverà in possesso definire il regno suo ecco perciò perché ti tengo tutto occupato nel lavoro di questo mio regno e c'è molto da fare per preparare il gran miracolo che il regno del fiat sia posseduto e conosciuto perciò sia attento a varicare il male interminabile della mia volontà finché venga stabilito l'ordine tra creatore e creatura e così potrò fare il gran miracolo che per mezzo tuo l'uomo mi ritorni alla sua origine d'onde ne uscì chiaramente queste ultime righe le riprenderemo quest'ultima pericola diciamo così all'inizio della prossima puntata per dedicare loro un commento più approfondito come meritano chiuderemo questo scritto e certamente andremo avanti introducendosi nei passi ulteriori per entrare nel regno del fiat divino alla mia benedizione a tutti l'aggiuro di una santa serata un santo fine settimana ave maria l'aggiuro di una santa serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti